Oggi siamo qui come Casa Pound Italia per chiedere una soluzione definitiva al problema delle autostrade e dei loro rincari. Come abbiamo già fatto a primavera di quest'anno, dove siamo stati a protestare sotto l'amministratore delle infrastrutture, a chiedere già all'epoca una soluzione e all'epoca siamo stati anche asparmente criticati da alcune persone che addirittura oggi sono presenti qui, il 31 dicembre, a chiedere quello che noi già chiedevamo 8 mesi fa. Non è possibile che delle autostrade già classificate per legge come arterie fondamentali per protezione civile siano state lasciate in mano a un gestore privato dal 2012 che ha potuto continuare a lucrare allacremente sulle nostre tasche. È inutile che si continui a fare le chiacchiere, qui è ora di fare veramente ciò che noi avevamo proposto nella nostra campagna elettorale il 4 marzo. è stato ribadito purtroppo con la disgrazia del Ponte di Genova, ovvero una nazionalizzazione dell'autostrade, ovvero una gestione diretta da parte dello Stato. Per questo siamo qui ancora e monitoreremo sempre la situazione e ci faremo sempre portatore dell'unica soluzione possibile.